passo con calma francesca guarda dove devi andare stai tranquillo e tranquillo 3 e allora la prossima volta fermati più dritta però è apri prova gamba gamba 3 gamba destra gamba destra ok al centro piccolo e lento così brava per fare il cambio metti la gamba ben indietro bravissima un po' di più lana un po' di più così piccolo e lento bravo gamba bella indietro ok con calma gira con calma attenta le mani eh fermalo brava gira via 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 pianino rallentala un po' pianino così bravissima bravissima aspetta gira giù le mani dai 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 piano piano fermala fermala ok brava brava franci Grazie.